Amici del canale YouTube, rieccoci con il secondo contributo di giornata di questo martedì 19 marzo. Ovviamente apriamo questo video facendo le nostre condoglianze alla Fiorentina e alla famiglia di Giobbarone. Il direttore generale della Fiorentina è scomparso, è venuto a mancare nella giornata odierna. Sapete benissimo che nel weekend è stata rinviata Atalanta-Fiorentina proprio perché poco prima del match il dirigente della Fiorentina si era sentito male. Aveva avuto un arresto cardiaco, poi era stato trasportato all'ospedale San Raffaele ma alla fine non c'è stato purtroppo nulla da fare. Condoglianze, condoglianze e rispetto per la famiglia, per i cari di Giobbarone, della famiglia Barone e ovviamente anche della Fiorentina che perde una figura di riferimento importante all'interno della società. Credo che sia doveroso cominciare questo video con le condoglianze. Passiamo però anche ad altri argomenti. Naturalmente il nostro è un canale dedicato al Milan. Tra l'altro la prossima partita sarà Fiorentina-Milan, quindi ci sarà sicuramente un minuto di silenzio prima dell'inizio del match. Immagino che lo stadio della Fiorentina sarà uno stadio che porterà un tributo al proprio direttore generale. Sarà una partita particolare e speciale, avremo anche il nostro inviato di Milan News a Firenze dove ci racconterà sia l'ambiente ma anche ovviamente la partita. Fiorentina-Milan alla ripresa del campionato. E a proposito di campionato e ripresa di campionato c'è un'indiscrezione importante che vogliamo riportarvi sul derby. Derby di Milano, derby dove tutti aspettano questo derby che in tanti scommettono che l'Inter possa vincere il derby in casa del Milan e soprattutto possa vincere lo Scudetto. E il campionato della seconda stella in casa del Milan non vedono l'ora che arrivi questo derby e ci sono delle indiscrezioni sulla data del derby tra Milan e Inter dove i rossoneri giocano in casa. Sapete bene che il Milan gioca la gara di ritorno di Europa League contro la Roma quindi all'Olimpico il 18 di aprile. Il derby si sarebbe dovuto disputare domenica immagino se il 18 di aprile la squadra torna in tarda serata che è un giovedì a Milano avrebbe avuto il 19 e il 20 venerdì e sabato per preparare il derby si sarebbe dovuto giocare domenica 21. invece dalla Lega filtra questa idea cioè di spostare il derby lunedì 22 aprile ovviamente di sera 20 e 45 è un'idea che può essere confermata nella giornata di domani perché nella giornata di domani avremo l'ufficialità delle prossime tre giornate di campionato che si vanno quindi ad incastrare ad integrare anche con le gare europee perché ora sappiamo il calendario dell'Europa League del Milan non è ancora uscito quello della Serie A sono delle indiscrezioni confermate quindi aspettiamo l'ufficialità domani ma si va verso il derby al 22 di aprile che è un lunedì il derby è un po' strano di lunedì però insomma era anche giusto dare al Milan magari un giorno in più per preparare questa partita visto che il Milan tornava dall'Olimpico di Roma dopo il ritorno dei quarti di finale di Europa League il 18 che è giovedì quindi indiscrezioni che comunque trovano conferme io aspetterei comunque la giornata di domani per avere l'ufficialità da parte della Lega e a proposito di ufficialità c'è una notizia molto bella il Milan giocherà in estate delle amichevoli di lusso ma vero lusso perché non è che il Milan in estate affronterà squadrette durante le amichevoli a luglio-agosto affronterà le migliori formazioni in Europa il Milan parteciperà alla Soccer Champions Tour 2024 che si terrà negli Stati Uniti è stato ufficializzato proprio oggi con questi amichevoli davvero di prestigio e vi dico anche le date allora si parte sabato 27 luglio 2024 contro il Manchester City di Pep Guardiola subito si parte col botto 27 luglio a New York si giocherà questa partita è davvero di grande prestigio contro un avversario di livello mondiale perché il Manchester City detiene ancora il titolo di vincitore della Champions League ha battuto appunto l'Inter in finale nella scorsa edizione naturalmente ora la Champions si sta ancora disputando vedremo se vinceranno ancora loro saranno altre squadre a conquistare il trofeo ma resta una delle formazioni se non la formazione più importante e più prestigiosa in questo momento insieme probabilmente al Real Madrid e forse al Bayern Monaco comunque sabato 27 luglio 2024 contro la formazione di Pep Guardiola Mila e Manchester City a New York poi qualche giorno dopo mercoledì 31 luglio 2024 contro il Real Madrid di Carletto Ancelotti di Brandiaz di Mbappé sarà anche la prima amichevole del Mian contro Mbappé contro Vinicius insomma sarà un qualcosa di prestigioso e questa volta però non si gioca a New York ma a Chicago martedì 6 agosto 2024 invece contro il Barcellona a Baltimore ci sarà questa terza amichevole amichevole di lusso però è stata subito calda perché il Mian tra fine luglio e inizio agosto ci affronterà queste tre squadre poi ci saranno sicuramente altre amichevole intermedie prima e dopo solitamente il Mian fa prima qualcosa a Milanello con squadre diciamo così di un rango inferiore e poi però partecipa a questa bellissima tournée negli Stati Uniti d'America tra l'altro c'è un dato molto bello che emerge con oltre 43 milioni di tifosi negli Stati Uniti con oltre 43 milioni di tifosi negli Stati Uniti con il riconoscimento come club italiano di calcio più apprezzato secondo la ricerca del mercato internazionale YouGov in Milan e profondamente radicato in Nord America quindi 43 milioni di tifosi a Mian negli Stati Uniti la partnership del club con i New York Yankees la collaborazione con Yes Network il recente lancio del Fort Kit quindi del quarto kit con partner Puma insomma rendono la partecipazione del club rossonero diciamo in maniera pesante in maniera importante negli Stati Uniti perché comunque il Mian si sta espandendo molto da quel punto di vista dal punto di vista del marketing poi sappiamo bene che i rossonieri hanno in squadra un giocatore eccezionale formidabile come Christian Pulisic che è il capitano degli Stati Uniti quindi il Mian ritorna negli Stati Uniti d'America con più appeal rispetto a qualche anno fa anche per queste collaborazioni insomma ci aspetta una bella estate chiudiamo questo video dicendo che il Mian in questo momento è a riposo perché ci sono diversi giocatori convocati nelle varie nazionali compreso Mike Mignan quindi avevamo ragione noi quando ieri dicevamo che dal Mian filtrava poca preoccupazione nei confronti delle condizioni di Mike Mignan perché comunque dalla Francia De Champ aveva rilasciato delle dichiarazioni un po' preoccupanti ha detto è arrivato dall'ultima partita con il Mian con qualche problema dal Mian ci avevano detto guardate non ha nessun problema gli esami sono stati negativi nessun tipo di lesione muscolare evidentemente deve solamente smaltire un po' di stanchezza il giocatore comunque è nel ritiro della nazionale francese poi se non gioca ancora meglio non è che ci faccia schifo anzi tutt'altro se non gioca e si riposa per quanto riguarda egoisticamente lato Milan è ancora meglio quindi si evitano rischi però ecco da questo punto di vista possiamo dire che quindi la versione che ci aveva fornito il Milan era quella corretta dalla Francia invece emergeva un quadro un po' più diciamo non dico allarmante ma con un pizzico un po' più di preoccupazione sulle condizioni di Mignan alla fine però il giocatore sta bene invece un mese e mezzo fuori ci sarà Calulu Calulu rimarrà un mese e mezzo fuori a causa di questo problema a legamento collaterale mediale del ginocchio destro un abbraccio a tutti ciao ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti